Grandi lavori in Val Pusteria per le strutture dedicate e diversamente abili, Valdaime e Traia. Allora, sentiamo gli assessori competenti Massimo Bessone e Valtraud Deghe. Mai come in questo momento, dove la pandemia sta sconvolgendo il nostro modo di vivere, c'è bisogno di investire nel sociale. In Pusteria, la provincia autonoma di Bolzano, investe molto in questo ambito, soprattutto per quello che concerne le persone con disabilità. I diversamente abili non hanno solo bisogno di aiuti, di uno stipendio, hanno bisogno di strutture dove socializzare, dove poter lavorare e contribuire alla società e sentirse ne partecipi. Il Traia è una struttura importantissima in Val Pusteria, ma anche fuori del comprensorio, che è una struttura dove collaborano le persone con disabilità e anche convivono.